Quanti sono i giochi di prestigio? Mille? Diecimila? Due milioni? In questo libro Michele Pepe fa una cosa in controtendenza, ne sceglie uno e lo esplora con un livello di profondità mai visto prima. Nella prefazione Diego Allegri anticipa le obiezioni a un lavoro dal focus così preciso, chiedendosi un libro su un solo effetto così famoso poi ci voleva proprio? La risposta è sì, perché quando dedica tutte le energie al gioco del trionfo, il giovane autore di Altamura non solo testimonia una passione viscerale, ma ci mostra quanto sia profondo l'illusionismo, scegliendo uno dei suoi trucchi e accompagnandoci attraverso sottigliezze varianti e potenzialità creative. Mi piace chiamare trionfo l'operazione di Michele, in un mare di cose indistinte, scegliene una ed esplorala fino in fondo, arrivando dove nessuno è mai arrivato prima. Quella capacità di focalizzarsi viene spesso considerata un indizio di pazzia. Quelli che riescono nel trionfo vengono giudicati ossessivi compulsivi. Ma come dice Chiara Valerio. Ma io ritengo bello essere ossessivi compulsivi in un mondo che in qualche modo ti porta alla distrazione continua. Anche io che sono una fortissima ossessiva compulsiva, per esempio vengo distratta dai segnali stradali, dagli annunci sonori del mio cellulare. L'ossessione e la compulsione rispetto alle cose invece sono una capacità di restare nel presente, che è sempre un esercizio abbastanza buono da fare. La trama stessa del trionfo ha a che fare con la capacità di sfidare la distrazione per focalizzarsi su una sola cosa. Il pubblico sceglie una carta, il mazzo viene mescolato, un po' di faccia e un po' di dorso, e da quel disordine emerge all'improvviso l'ordine. Tutte le carte sono di dorso, tranne la carta scelta. L'attitudine al trionfo è preziosa nella vita quotidiana, per esempio nei musei. Prendiamo il Metropolitan Museum a New York. Due milioni di opere d'arte, 180.000 metri quadri di meraviglia. Molte persone vagano come sonnambule sopraffatte da tanta varietà tutta insieme. Operazione trionfo, muoviti con l'obiettivo di scegliere un'opera, immergerti nei suoi fondali e raccontarci cosa hai trovato. Io ho scelto un'allegoria di Domenico Guidobono, il ritratto di una fattucchiera che, secondo la targhetta illustrativa, ha ancora oggi in terro degli studiosi. Perché tiene un compasso su un libro di geometria. Perché è un quadro di inizio settecento, quando i libri di magia erano libri di matematica. Nelle ricreazioni matematiche e fisiche di Ozanam, per esempio, si trovano gli stessi disegni. E tra i vari trucchi descritti c'è per esempio quello del puzzle impossibile, di cui abbiamo parlato nell'episodio 266. Ma ci sono anche le ottiche della lanterna magica, il prisma dei Pink Floyd e una mappa della Luna. Conferma che il confine tra scienza e magia era abbastanza grigio. Sul quadro abbondano i simboli magici, un pipistrello, un teschio, una chimera con le ali dispiegate. L'animale in basso a sinistra è un coati. Guidobono potrebbe averlo visto in un giardino ligure. Nato a Savona, ha vissuto a lungo in Liguria e non è necessario andare a New York per ammirarlo. Lo si può cercare nel Palazzo del Melograno di Genova, dove ha affrescato alcune parti del piano nobile. L'antico Palazzo Nobiliare è ora un grande magazzino ed è assai spiazzante di ritrovarsi davanti a una statua di Ercole, tramutando i leggings. In questi giorni poi a Genova c'è la mostra sul barocco segreto, dove c'è un'altra tela di Guidobono, il San Giovannino. Tra le opere esposte ce n'è una che potrebbe aver ispirato il dipinto americano, l'acquaforte della maga circe di Giovanni Benedetto Castiglione. Anche qui la fattocchiera congiura le sue incantagioni davanti ad alcuni libri di geometria. E chi è lei? La figlia? La lieva? Entrambe le cose forse? Nessuno lo sa. Una cosa hanno in comune, non hanno un nome. Streghe, fattucchiere e maliarde subiscono spesso questa punizione. Privarle del nome è un modo per dimenticare figure scomode, indipendenti e troppo libere. Nel gigantesco Metropolitan Museum il mio trionfo è l'anonima Sibilla impegnata nelle sue incantagioni. E il tuo? Tra le milioni di immagini che incontrerai oggi, qual è il tuo trionfo? In quale fondale ci farai da guida? Non vedo l'ora di scoprirlo.